Come gli è stato raccontato questo personaggio che sembra per una prima parte quasi impassibile poi invece diventa come un animale ferito, insomma, come qualcuno che ha una rabbia interiore ecco, come le ha presentato il personaggio Bruno e poi come è diventato il giudice e lo monaco? Il detective No, io devo dire che stamattina c'è una signora che ci versa champagne da mezzogiorno Il Moet Chantron, che faccio anche come città e ci insegue tutto il pomeriggio già inseguito con la bottiglia di champagne, non è possibile rifiutare lo champagne e quindi a questo punto siete 8.000 ma per me siete 16.000 32.000 64.000 Ecco, arrivate fino a Venezia e a Cannes insieme raccogliete tutti i pubblici di tutti i festival del mondo fino a Toronto Ecco, ecco Quindi la domanda per me in questo momento è troppo complicata La rivandiamo, allora la rivandiamo Lo voglio dire solo al popolo di cinese Ricongiungetevi con Italia Diventate finalmente un nord Rinunciate a essere l'estremo sud di una nazione per diventare un nord l'estremo nord di un'altra nazione l'Italia Pensate Grazie 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 Grazie